Grazie per l'invito e soprattutto grazie per esserci per questo impegno con la Fondazione a contribuire al rilancio della nostra città e alla sua trasformazione, della quale appunto la rigenerazione è una dimensione cruciale, strategica. È una necessità perché Roma deve essere trasformata a un livello di obsolescenza della sua, non solo infrastrutture basilari ma anche di larga parte del suo tessuto urbano e quindi è una necessità dal punto di vista della qualità della vita delle persone, dal punto di vista della qualità ambientale, della qualità sociale, ma è anche una straordinaria opportunità. È questa sintesi tra necessità e opportunità che secondo me spiega anche questo momento molto positivo, una grande sensazione diffusa che questo momento di trasformazione...